L'ERIC aveva deciso di ritirare l'affido del servizio rifiuti ad Accam, però il TAR ha sentenziato che è una procedura illegittima. Adesso cosa succederà? Succede questo, che per prima cosa prendiamo atto di quelle che sono state le decisioni del TAR. Devo dire che le motivazioni che ho letto della sentenza rafforzano la volontà di andare avanti perché dimostrano palesemente che abbiamo tutte le ragioni di andare avanti. Quindi andremo al Consiglio di Stato. Oggi c'è stato un bando, abbiamo fatto una gara, la società che si è aggiudicata il servizio con questa gara ci ha garantito un risparmio di 600 mila euro all'anno. Quindi abbiamo dimostrato, abbiamo dato la prova approvata che seguendo le regole e facendo le gare i cittadini risparmiano, risparmiano sull'attari all'ERICI, il risparmio sarebbe stato di ben 600 mila euro ogni anno. Cosa succede ora? Si prosegue con la gestione H-Miren, salvo che il Consiglio di Stato non sospenda la sentenza del TAR e ci consenta di proseguire con l'affidamento alla Terzo Millennio, che è la società che ha vinto la gara. Questo è quello che accadrà, in ogni caso posso rassicurare i cittadini che noi andremo avanti e che quel risparmio un giorno si consoliderà. Il Comune di Lerici auspicava anche che l'intero territorio provinciale cambiasse pagina rispetto alla gestione di H-Medire. Quali sono le motivazioni che la spingono a chiedere di voltare pagina rispetto a quella stagione? Le motivazioni sono i 600 mila euro di risparmio che solo l'ERICI fa con la gara. Immaginiamo il risparmio di un comune come Spezia o di comuni dell'intera provincia. Le motivazioni dipendono dal fatto che noi, come dice il TAR, siamo d'accordo che la competenza a indire la gara sia della provincia. La provincia deve individuare il gestore unico dell'ambito provinciale attraverso una gara garantendoci i risparmi che conseguono di regola all'effettuazione di una gara. Se la provincia non lo fa, però a questo punto è legittimato a farlo il Comune, come ha fatto appunto il Comune di Lerici. Ad oggi il TAR ci ha dato torto, ma ricordo che ci diede torto anche sulla gestione Lerici-Mare, ma in Consiglio di Stato ci fu data ragione e oggi portiamo a casa 520 mila euro tutti gli anni di canone delle spiagge. Sono sicuro che andando avanti nei gradi di giudizio e se è del caso arrivando fino alla Corte di Giustizia comunitaria avremo ragione.